Votestai, votestai Mamma mia raga No, volo, volo, volo Sto per avere uno scippo mentale Non mi vado a mettere il rossetto Lo faccio solo la sera dopo un certo orario Wow Wow Unboxing Time Mi sono arrivati uno strafottio di Pacchettini E li spacchetteremo come da rituale Rigorosamente Inziem Perché veramente ragazzi Ultimamente tutte le aziende Mi fanno dei complimenti astrali Tipo ma come sei bello Ma che belli occhi azzurri che hai Ma che bel naso che hai Non hai tipo un gibbone con tutto il setto deviato Che non ti fa sentire bene gli odori e i profumi No, tu hai proprio un bel naso naso Dani E che bei capelli biondi Che bella barba Che bei baffi Ma che bei baffi che hai Che bell'outfit Insomma, tutti questi complimenti Mi vengono fatti appunto dai fondatori di queste aziende di nicchia pazzesche Delle quali vi parlo E io che dire E io che dire Molto umilmente E in modo anche contrito Io vi dico grazie Grazie per tutti questi complimenti che mi fate Però effettivamente sì Ci avete ragione Iniziamo lo spacchettero dei pacchetteni Dopo Xans Dopo questo Dopo quello Mille cose da fare Ma eccomi qua Tutto per voi Perché questo è Naso Dani Il primo canale in Italia Dove si è iniziato a parlare Esclusivamente di profumi di nicchia Aspetta che mi sistema un po' la sciarpina qua Un po' così Un po' cosa Eccomi Allora, non so niente Io non saccio niente Veramente lo dico alla napoletaniella Perché proprio Non mi ricordo Cosa mi hanno inviato Cosa mi hanno giftato Li andiamo a scoprire appunto Insieme Partiamo subito col Direi primo pacchettone Ops, mi è caduto quest'altra bustina Che tra l'altro questo è Questo è un discovery Ma io i discovery Dei discovery Io ne parlo Perché vedo che molti sono Cioè anche in generale Quelli che mi seguono Sono un po' schizzinosi Sui discovery Fanno Discovery No raga Il discovery è utile È utile perché ti aiuta A conoscere tutte le referenze Di un'azienda Cioè è una cosa importantissima Poi certo Il food battle È sempre il full battle È ovvio Noi amiamo Le bottiglie Piene Belle grosse Ma comunque anche il discovery Sicuramente Ha il suo fottuto Perché Pacchetteno Che arriva questo Dalla Spagna Credo Sì Da Barcelona Dovrebbe essere proprio I miei amici I miei amicici Amicici Carner Carner Barcelona Che tra l'altro C'avevano lo stand A fianco al mio Praticamente Di fronte a quello Di Mikalef E non ho avuto tempo Neanche di andarli a salutare Mi dispiace Se vedrete questo video Vi saluto comunque così Affettuosamente Tutti Perché veramente Carner è un'azienda pazzesca Partiamo Con lo spacchettero Vediamo qui Il pacchetteno Guardate che bello Adoro Adoro tutto Adoro il modo in cui Confezionano le cose Adoro le loro boccette Le loro fragranze Sono pazzesche Loro sono spagnoli Hanno una marcia in più Dai Diciamocelo A livello di comunicazione Sono molto molto Calorossi Vediamo ancora dentro C'è un altro pacchetteno Con tutta questa Carta velina Bellissima Che pacchettiamo Tutti insieme E niente Altra cosa da dire Ecco Tutti questi prodotti Mi sono stati Giftati Io lo dico sempre Quando me li regalano Perché Sono regali Che però Mi sono scelto A caval donato Sì non si guarda in bocca Ma in questo caso È a caval richiesto E non ci guardo in bocca doppiamente Perché sono tutti i profumi pazzeschi Che avevo proprio chiesto io E stavolta È il turno di BOTAFUMEIRO Che praticamente Il BOTAFUMEIRO Cos'è? È l'incensiere spagnolo Quelle ampolle che I nostri sacerdoti Nelle nostre chiese Insomma italiane Europee Eccetera Usano no? Quelle piccoline BOTAFUMEIRO È la stessa cosa Però in scala 1 a 20.000 Cioè è una roba gigantesca BOTAFUMEIRO È il secondo loro incensato Che io adoro Alla follia E eccolo qui Boccetta Vi faccio vedere Tutta la presentation Perché veramente hanno Dei packaging I tappi bellissimi Le scatole bellissime Proprio guarda Carner è proprio top level Oltretutto Su Carner Barcelona C'è uno sconto Del 10% Tipo Danni10 Ve lo linko poi sotto In sovraimpressione O comunque Lo trovate in descrizione BOTAFUMEIRO Cos'è? È un ambrato incensato Che sicuramente Non mi mancavano Dei profumi ambrati Incensati In collezione Perché sono un particolare amante Della categoria Ma ho detto Perché non posso averne Un altro ancora in più E infatti Eccolo qui Ce l'ho qui Ed è proprio Appunto Questo Questo mega capolavoro Ambrato Che io Ho adorato sempre A 3000 È stupendo È molto resinoso Molto caloroso Sa molto di Spagna È vagamente ecclesiale Direi Abbastanza ecclesiale Ecclesiastico Apre con note di noce moscata E pepe rosa Quindi L'apertura è abbastanza frizzantina E un po' polverosa Poi ci sono Incensi Stirax Un accordo di labdano E paciuli Quindi È molto 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 intensa Coccolosa sicuramente Dolce Cioè È un incenso dolce Perché esistono due tipologie di incensati Quelli tendenti al dolce E quelli tendenti al secco Questo fa parte Della categoria dei dolci Un po' tipo Così blu Di Pantheon Roma Un po' tipo Sideris Di Maria Candida Gentile E così via Gentile anche lui Molto delicato Gradevolissimo Oh che buono Mi fa impazzire cosa? L'unione tra appunto L'incenso Tra questo olibano Molto realistico E il pepe Perché già L'olibano Ha già Un sentore un po' pepato Se ci fate caso L'olibano di per sé È una resina adatta Proprio a A tirare su anche il morale È un antidepressivo Molto potente Quindi è un po' piccantino anche Cioè ti risveglia Ti dà un po' quella sveglia positiva E qui questa sveglia positiva È raddoppiata appunto Da questo pepe nero Voi amate le fragranze pepate Amate le fragranze Un po' con noce moscata Incensato Se le amate Fatemelo sapere in un commento Se le amate Questa Questa può fare davvero Davvero per voi Non è orientale Cioè è un tipo di incenso Molto occidentale È un po' come uscire Da una chiesa Ecco L'idea è un po' quella Però non sa di qualcosa Di sacro Sa di qualcosa Di Di elegante Distinto Unisex Uniseason Assolutamente da avere È bellissimo Bottafumero Ve lo suggerisco tantissimo Di Carnier Barcelona Poi Questo È una Sorta di Mini Discovery Ma neanche poi tanto Perché è più che un Discovery Perché sono 3 10 ml Quindi sostanzialmente È un 30 ml Di una Ragazza Mia follower Fan Dark Lei super dark E aveva Cioè vicino a lei C'era insomma una persona Non so se era il compagno Credo di sì Non lo so Non vorrei fare gaff Dark anche lui Fantastici da vedere Semmavano due corbi maledetti Vi adoro Vi amo Se vedrete sto video Sappiate che avete tutta la mia Stima Per il vostro look E per il vostro stile Parlavamo insomma Del più e del meno E alla fine viene fuori Che lui Capito questo tipo Bello Dark Che tu dici Questo O è un Chitarrista Heavy metal O è un criminale Cioè una delle due In realtà mi fa E io sono commercialista Wow Fantastico È una cosa stupenda Quando ci si immagina qualcosa E in realtà Tutto quello che avevi immaginato Viene disintegrato completamente Davanti a te È un risveglio bellissimo Sempre ogni volta Queste piume nere Le vedete? Adesso poi vi dico anche il nome del brand Che tanto lo troviamo Allora Fortissime Wow 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 Adoro 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 queste piume Metto una qui Ecco qua Così ci faccio tutto l'unboxing Mi piace questa cosa Wow Sembra che hanno spennato un corbo Tipo E loro praticamente Allora È made in Switzerland Quindi sono profumi appunto Fatti in Svizzera In piccolissime produzioni Questo si chiama Macabre Credo di ricordare Che è il nome del brand Un attimo che prendo il coltellazzo Dove ce l'ho Io devo sempre averlo Il coltellazzo pronto Da macellaio Perché non si sa mai nella vita Ok Apriamo Ah ok Benissimo Sì il brand infatti è macabre Cioè macabre Guardate che bello Che chic Adoro Adoro questo contrasto Argento su nero E questa fragranza si chiama Il chiaro di luna Claire de Lune E wow Wow Che figo Guardate raga C'è praticamente il pescante dentro Che è tipo serpentello Vedete Cioè è tipo avvoltolato così Figa st'idea Adoro Mi piace Apriamo Sentiamo Devo troppo sentirlo subito Bello il diffusore Che meraviglia Questo è un pulitone Mentoso Frescio Un po' animalico Sento tanto questa menta Molto clean Molto pulita E wow Bello Bello Claire de Lune Mi è piaciuto Può sicuramente entrare a far parte Dei migliori estivi Molto probabilmente È molto bello Io adoro la nota di menta Tra l'altro Cioè c'è questa nota un po' balsamica Un po' fresca Un po' burro cacao Immaginate un burro cacao alla menta Come idea C'è un bel contrasto C'è un'altra nota che non riesco a decifrare Nell'immediato Ma Sembrerebbe Styrax Anche qui un qualcosa di Di oscuro Di oscuro C'è un'unione tra oscuro E luminoso E proprio questo forse è il fatto Il concept del chiaro di luna Quindi Questa luna che brilla nel buio Mi è piaciuto Adesso vado un po' velocino Perché me li voglio sentire tutti questi Perché mi ha molto incuriosito Recovery si chiama Adesso poi magari le note Non le azzeccherò manco tutte Però vi so dire più o meno Ecco una linea A parte che c'è proprio il coso dentro C'era 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 Quindi lo vediamo anche qui Ve lo dico subito Questo era menta Pepe bianco Lavanda Pera Bambù Ciliegia Orchidea Foglia di fico Vetive Paciuli Vaniglia White mask Sì quindi un muschia Insomma c'è un botto di roba Effettivamente Molto interessante Recovery Questo dovrebbe essere un Notte speziate Miele Latte Cognac Iris Fiori bianchi Cedro Balsamo del Peru Vaniglia Insomma un po' di cose Vediamo un po' Vediamo un po' Questo mi intriga parecchio anche Mamma mia raga No Volo 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 Qui sto volando Sto per avere uno scippo Sto per avere uno scippo mentale Pelle 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 subito Adoro Adoro Allora c'è un'apertura Mega gourmand Mielata E lattonica Quindi latte e miele Proprio lo Ve lo sbatte proprio in faccia Ma del miele Io non sento il liquido Io sento proprio l'alveare Avete presente Quei favi Che si trovano col miele dentro Che si mangia tutto il favo Col miele Ecco mi dà quest'idea Un po' ceroso Sa un po' di baita di montagna Mi ricorda il legno delle baita di montagna Mi ricorda questi paesaggi montanari Però cosi Molto cosi Molto accogliente Infatti il recovery Credo che sia un po' il loro Il suo concept Cioè creare qualcosa di Così Barra Che ti dà un po' un benvenuto Barra Uplifting Che ti tira sul morale Questo è un bellissimo antidepressivo Cioè adoro Se ci avete un attimo di momento di tristezza Questo vi dà una botta di gioia raga Bellissimo Strano poi Cioè io me li immaginavo il loro Il loro brand Un po' più oscuro Più dark Non so Note un po' strane Questo è bello gioioso Mi piace questo contrasto Comunque Ve lo suggerisco tanto Si chiama Recovery Di Macabre O Macabre Dipende dai punti di vista E poi adesso andiamo con l'ultima Vediamo un po' Nemesis Wow Bergamotto Caffè Note speziate Narciso Fiori bianchi Fava tonca Tabacco Benzoino Vaniglia Eccetera 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 Tutte e tre molto belle Complimenti davvero Tutte e tre Le mie preferite Attualmente le mie preferite È Recovery Bella Questa forse Un po' più Delle tre è la più È la più difficile Però degno di nota Molto degno di nota Sto brand Bravissima sta ragazza Complimenti Ne parlerò Ne parlerò senz'altro Se poi Ti farà piacere Giftarmi Non Claire Deleun Ma Recovery Ne parlerò un botto Sappilo Amici Vivi The House Of Ud Raga Ero lì Ad Exxans E mi hanno voluto Giftare Questa fragranzessa Che io Insomma Loro per me Sono uno dei brand Top level Assoluti Al mondo Fanno delle cose Fanno delle cose pazzesche Li adoro Guardate che cura Del colore Cioè guardate che bello Sto violetto Su verde pistacchio Via la sleeve E abbiamo sotto Lo stesso violetto Verde pistacchio Cofanetto Cioè raga Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Guardate che meraviglia Qui è arte Arte pura Unita Alla profumeria di nicchia Cioè Top 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 Level Top level Guardate che bello Troviamo questa raffigurazione serigrafata Di queste carte Tipo sopra una mongolfiera Nel cielo Molto strano come cosa E poi l'altra cosa particolare Di The House of Wood Ho anche detto The Il brand È questa Zam Cioè che L'atomizzatore praticamente È a rovescio Cioè la boccetta è a rovescio Voi la mettete A rovescio Insomma Siamo capiti Per chi non conoscesse il brand Gambling Naso Maurizio Cerizza L'avevo già sentita Mi era piaciuta da matti Qui abbiamo Note di pepe del Sicuan Whisky Caffè Mastice Cipresso Vetivera Miris Praticamente è una sorta di Legnoso Aromatico Balsamico Cioè la famiglia olfattiva Che io proprio adoro In assoluto Ma Cioè Troppo buono Raga Madonna Se chiudete gli occhi Vi riporta proprio All'abete svizzero A quel legno secco Virile Deciso Di alta alta classe Molto naturale Molto selvaggio Ma comunque anche Romantico Estremamente bello Su un fondo incredibile Di resine Un intreccio Impressionante Di legni Super pregiati Super lusso Super bello Questo è veramente Una cosa pazzesca Sto prodotto Non è un prodotto È arte Arte pura Lo adoro Lo adoro tantissimo In primavera Questo ragazzi È il top È il suo Perché è rinfrescante È uno di quei profumi Mega particolari Che però indosseresti sempre Anche per un aperitivo Anche per andare Non lo so A fare la spesa Se andate a fare la spesa Anche per Dovunque Cioè è un È un All day All season All day Incredibile Incredibile prodotto Da parte di The House of Wood Che li ringrazio E il nome vi ricordo È Gambling Questo Questo prodotto Si chiama Gambling Bellissimo Ecco vabbè Questo Allora già Vabbè Io questo già l'ho aperto Era un gift Derivato sostanzialmente Da Exans Non entro nel merito Però insomma Ecco Io lo desideravo tanto E alla fine eccolo qua Nelle mie mani Boco Boco Magic Mushrooms Ne ho già parlato Non torno a parlarne Non torno a dirvi Del fatto che Il liquido dentro Cambia colore Guardate che figo che ha Cioè Ha tutte delle nuances Stranissime A livello di colore Perché anche la fragranza Dentro ha un sacco Di nuance diverse E qui le note Particolari Utili a Descrivere la fragranza Sono quelle proprio Di fungo Fungo magico Viene descritto qui Non so se avete mai provato I funghi psichedelici Comunque Questo Teoricamente dovrebbe Portare un po' La mente In quell'ambito lì È Stupenda Mega verde A messa Di terra bagnata Di terra bagnata Di erba verde Dove è appena piovuto Di fiori Di funghi Di sottobosco Di colore Letteralmente colore È una di quelle fragranze Poco spiegabili Perché ad ogni snaso Cambia Sono tipo quelle fragranze Appunto che Sì Molto molto cangianti Un po' come il colore stesso Come primo impatto Proprio ad apertura È una pioggia Su un prato verde Proprio questo è l'odore È un petricore verde Gradevolissimo Super naturale Super libero proprio Gioioso Divertente Psichedelico Perché poi c'è dopo Un twist Che riporta le note Ha delle vibe Un po' più acquatiche E di cannabis E vetiver Quindi Super strano Super bello Io lo amo Alla follia Magic mushrooms Di Bocco Bocco Pazzesco Questo Da dover No Questo 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 è un discovery Che mi Mi è stato dato Da una profumeria Di Milano Dove dentro Praticamente Ci sono Teoricamente Vediamo un po' Dei tre profumi Di prova Di Essenze di Alberto Che saluto E sostanzialmente Vabbè Lo conoscete tutti Non c'è bisogno di dire Per chi non lo conoscesse Essenze di Alberto Praticamente è stato Il primo in Italia A fare un canale Dove si parla di profumi E lo trovate qui Su YouTube Il brand si chiama La Serra Mi piace tantissimo La loro immagine Coordinata Mi piace Il suo modo Di spiegare i profumi In generale E sono molto Curioso Di sentire Le sue tre fragranze Le vado a snasare Adesso Molto molto velocemente Per dirvi La mia preferita Anche in attesa Magari proprio Del full battle Da poter inserire Nei miei video successivi Partiamo con Obsessive Leather So che uno dei tre Sta avendo tantissimo successo E vediamo comunque Io non amo i cogliati Non amo appunto i cogliati Ma vediamo un po' Obsessive Leather Di La Serra È un cogliato Con un'apertura tipicamente Incensata Ma che poi Si accorda Con questo paciuli Molto morbido C'è questa nota di cisto Unita al cuoio Che poi Per chi non sapesse Tipo il cisto labdano È una delle note Che più si ravvicinano Proprio all'odore di cuoio Mi piace Mi piace però Me lo devo studiare meglio Perché appunto I cogliati Non sono proprio Nelle mie corde Compulsive Musk Le boccette tra l'altro Ragazzi sono È un bellissimo lavoro Perché mi ricorda Un po' i vecchi liquori No? Ricorda un po' Delle vecchie cose da barbiere Con questo tappo Dove tutte le note Sono espresse Praticamente Attorno al tappo C'è un bellissimo lavoro grafico Gran 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 lavoro Mi piace Compulsive Musk Dovrebbe essere un legnoso Talcato Muschiato Un po' balsamico Io i legnosi li amo Quindi teoricamente Questo dovrebbe fare abbastanza Per me Se non altro Dovrebbe essere Nelle mie corde Oh che strano È un legnoso Però dolce E anche vagamente pulito Io ci avverto Qualcosa di balsamico Un po' di menta Ce l'avverto Sinceramente Anche se non c'è Molto probabilmente Però C'è un accordo fresco Ecco Un accordo pulito Fresco Molto molto delicato Gentilissimo Questo prodotto Gentilissimo È un muschio Gentile Fresco Aggraziato Molto Aggraziato Infatti di compulsivo Sinceramente Cioè Mi sarei aspettato Una fragranza Un po' più Aggressiva Forse Come apertura In realtà È di una delicatezza Quasi mai vista Bello Bello Molto bello Molto bello Compulsive Musk Approvatissimo Approvatissimo E andiamo adesso Infine con Binge Eating Vanilla Il binge eating Per chi non sapesse Ah ecco Il concetto Sostanziale di la sera Credo per questa collezione Sono diciamo Alcune patologie Sostanzialmente Appunto La compulsione Il binge eating Che significa appunto Ingozzarsi Fino poi tipo A vomitare Obsessive Appunto C'è ossessione E compulsione Il binge eating Insomma è un argomento Molto molto delicato Ovviamente In Italia Viene riconosciuto Essere come La bulimia Credo Ma Wow Bello Un gourmand Un gourmand Non facile Un gourmand Duro Un gourmand Di nicchia Un gourmand Vagamente burro cacaoso Tra virgolette Plasticoso Mi viene a dire Un gourmand Plasticoso Una vaniglia Plasticosa Immaginatevi Una donna Ricoperta di vaniglia E poi con un completino Di latex nero Mi dà un po' Quest'idea Cioè Non per dire Che è un profumo Femminile Assolutamente È un unisex pieno Però ecco C'è questo touch Di nocciola Fava tonca Che riporta Un po' All'odore Della pelle Un po' Sudata Ma è una cosa positiva Appunto Quello che dico Cioè Mi sa di Di cremoso Ecco Una vaniglia Cremosa Morbida Plasticosa Tra virgolette Quindi Dei tre Dei tre È quello che avverto Il più innovativo Il più artistico Tra virgolette Dei tre Preferisco Tra tutti Però Compulsive mask Assolutamente Comunque belle creazioni Grazie alla profumeria Oggioni Per avermeli inviate Qui era Questo Vabbè È un È un regalo Sempre di The House of Wood Mi hanno fatto questo Guilty Crush Che è sostanzialmente Questo Rossetto Boh È un rossetto Strano Cioè Da ciò che ho compreso Dovrebbe essere una sorta di Non so se Sì È un rossetto È un rossetto Non mi vado a mettere il rossetto Lo faccio solo La sera Dopo un certo orario Però Per adesso L'odore È figo È figo Perché è Guilty Crush Praticamente La fragranza Ispirata poi Con note anche di rossetto Champagne Eccetera Poi Andiamo avanti Latte Mimosa Allora Io Adoro il latte E odio profondamente L'odore di Mimosa Ve lo dico Quindi molto probabilmente Chissà Forse mi farà schifo Non lo so Questo è stato un gift Non l'ho scelto io Me l'hanno proprio giftato Anzi no C'è da dire una cosa Io ero curioso Di sentire la loro ultima creazione Quindi in un certo senso Sì L'ho scelta io Tra virgolette Però L'odore di Mimosa In generale Non mi ha mai fatto impazzire Ma voglio vedere Come l'hanno Gestita Voglio vedere Questo mi incuriosiva Di New Notes Bellissimo logo Tra l'altro Richiamo un filino Di Nine Inch Nails E adoro Per questo Boccette stupende Guardate che bella Che è questa È la loro ultima creazione Latte Mimosa Dovrebbe essere un lattonico Appunto fiorito E vi dico com'è Oh Wow 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 Fioritissimo Caldo Ma Mescolato a una stanza Piena di fiori Piena di fiori Avverto in parte Il touch di Mimosa Che non mi dà fastidio Ma soprattutto Avverto questi accordi Un po' tropicali Di Lang Lang Un po' europei Di Iris Un po' notturni Di Gelsomino Quindi è sostanzialmente Un fioritone Letteralmente Un fioritone Primaverile Unisex Bellissimo Questo su un uomo È da perdere la testa Ve lo dico io Farete perdere la testa A chiunque Maschietti che mi seguite Perché è una fraganza Insolita È una fraganza che Nell'immaginario Potrebbe essere Sicuramente Un po' più femminile Ma io su un uomo Questa ce la vedo da matti Oh Bella cremosa Questo sandalo Questa vaniglia Appunto la nota vanigliata A me richiama un po' Il latte biscotti No? Cioè Questa dolcezza di fondo Tiepida Una dolcezza tiepida Primaverilone Estremo Di estrema ricchezza Di materie Prima lo avverto già Adesso C'è Ha un botto di nuanze È già cambiato Un po' notturno Un po' diurna Pulitona Pulitona È tosta 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 Latte mimosa Di New Notes Per un outfit Qui Lo vedo Un outfit comunque diurno Una fraganza Più diurna Che notturna Dovrebbe anche spingere parecchio Secondo me Come proiezione Cioè L'avverto già da qui Sento proprio Le molecole Che sparano 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 Molto interessante Grazie New Notes Per questo gift Andiamo adesso Con l'ultimo pacchettino Che dovrebbe arrivare Se non sbaglio Dalla Francia Vediamo un po' Sì Dovrebbe essere Sì È Byron I miei amichetti Delle banlieue Di Byron Byron Parfum Che tipo Questa me l'hanno Me l'avevano inviata Tipo sei volte Si è sempre persa Gli è sempre tornata indietro Tipo E dovrebbe essere Dovrebbe essere Finalmente Speriamo Speriamo Oh sì Finalmente Mula Mula Double Caramel Double Caramel Che dire di Mula Mula Double Caramel Che Di tutte le loro È Una delle più particolari Io la sentì Al Pitti Mi piacque Moltissimo Tant'è che insomma Me la so fatta inviata Perché comunque Ce la volevo avere in collezione Ma me la voglio studiare meglio Perché al Pitti Non avevo Non me l'ero sentita bene 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 Me la voglio studiare meglio Adesso con più calma Soprattutto per dirvi Se appunto Questa nota Di doppio caramello Emerge In modo significativo Oppure no Packaging Bam Boccetta Verde Con tappo Stupenderrimo Aspetta che Mi è caduto il tappo Eccola qui Mula Mula Double Caramel Direttamente Dalle banlieue Parigine E andiamo Per capire un po' Sto doppio caramello Ah beh sì Si avverte Si avverte Si avverte bene Perché c'è Mula Mula Che io adoro Ne ho già parlato varie volte E questa è una versione effettivamente più edulcorata Si sente quasi una nota di zucchero bruciato proprio no? Quel croccantino di zucchero bruciato Quindi un po' Dolce ma lievemente amarognola Bella tosta Bella fruttata Bella intensa Lampone Fragola Vaniglia Ricorda un po' un gelato alla fragola Con sopra dei lamponi C'è questa vaniglia spolverata sopra Molto cremoso Con però vari contrasti In apertura Con questa nota piccantina di zenzero Un po' aspra Un po' acidula E sotto invece un nude dell'Aos Che fa da fondo In modo molto molto ricco e opulento Quindi non è una fragranza ecco Troppo troppo giovanile Perché magari uno legge le note e dice Ma cos'è? Questo solo mette una ragazzina di 15 anni No assolutamente È comunque appunto ricca Distinta Chic Può essere benissimo Usata in giacca e cravatta Unisex anche qui pienissimo Molto divertente Me la spruzzo di qua Per il vizio che prima qui in questo braccio Mi sono spruzzato un'altra cosa Qui mi spruzzo Mula Mula Double Caramel Molto interessante L'apertura di zenzero si avverte molto molto bene È un bellissimo primaverile Primaverile perfetto Proprio perfetto 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 Oltretutto intonato adesso Con la luce che ho dietro Bello Mi è piaciuto da matti E per chi ama Mula Mula Effettivamente il Double Caramel È uno step in più Che uno potrebbe proprio 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 Realizzare Devo dire che ha proprio il suo perché Molto molto piacevole La studierò senz'altro La indosserò senz'altro Nei prossimi giorni Per dirvi qualcosina in più Intanto io ringrazio voi Per avermi seguito fino a qui Ringrazio tutti i brand Che mi hanno giftato queste fragranze Noi ci rivediamo presto al prossimo video State incollati al canale Perché arriveranno presto Delle profumosissime novità E con Nasodani Non sbagli mai Nemmeno nell'unboxing Di pacchettini Di profumi di nicchia Pazzeschi Ciao